grazie io a questo punto vorrei cantare una canzone però mi piacerebbe cantarla con una mia amica una mia compagna di lavoro una cantante bravissima Antonella la voce dei Mattia Bazar ciao ciao dov'è il tuo microfonino è questo andiamo a prendergli il microfonino saluta così che si accoglie un'amica adesso se ci sente Miguel Powers Women potere alle donne in questo momento mi dispiace per voi ragazzi e non solo in questo momento un po' di reggae un po' di reggae dai e io so che voi la sapete questa e la luna bussò alle porte del buio fammi entrare lui rispose di no e la luna bussò dove c'era il silenzio ma una voce sguaiata disse non è più tempo quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più in là qualche cosa da fare dopo aver pianto un po' per un altro no per un altro no che le disse il mare e la luna bussò su due occhiali da sole quello sguardo non si accorse di lei ed allora provò ad un par di piscina e se ne andò a cercare un po' più in là qualche cosa da fare e dopo aver pianto un po' per un altro no per un altro no di un cameriere e allora giù e allora giù e poi si vede il caso più vicino ai marciapiedi dove è vero quel che vedi e allora giù e senza bussare dove ci sia da un bambino per capersi addormentare e allora giù e allora giù e prestaci amore dove è un lusso e la fortuna c'è bisogno della luna e allora giù 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 guarda c'è bisogno E allora giù, guardi il mercato, piovi fino in marciampiedi, dove è vero quel che vedi? E allora giù, senza bussare, dove c'è il mio campino, per potersi adormentare, e allora giù, per stracci amore, dove il lusso e la fortuna, c'è bisogno della luna, e allora giù. E allora giù, 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 giù. E allora giù, 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 giù. Grazie Antonetta. Grazie. Ci stiamo, noi due ci stiamo divertendo veramente. E poi? Io spero di sì, anzi io spero proprio di ripetere questa meravigliosa, stupenda esperienza. Io sono felicissima invece di avere nel gruppo, noi siamo felici, una ragazza così simpatica, lo sappiamo tutti. Abbiamo una sesta persona nel gruppo, nel Mattia Bazar.